Oggi presentiamo il bando giovane, un bando molto atteso dalla comunità giovanile agricola regionale. Mettiamo a disposizione 21 milioni di euro, 14 per la parte a premio e 7 per la parte a investimento. Possono partecipare a questo bando in giovani fino a 40 anni, la scadenza del bando è il 4 luglio prossimo. Un investimento importante, 21 milioni di euro, riguarda il primo bando della nuova programmazione per quanto riguarda i giovani perché complessivamente abbiamo messo a disposizione 45 milioni di euro per tutti e 6 anni della nuova programmazione. Un investimento importante che ci consentirà di rigenerare tanta parte della classe imprenditoriale agricola regionale. In agricoltura c'è bisogno di ricerca, di innovazione, di studio, di formazione e tanta parte delle misure del PSR riguardano questi aspetti e accogliamo volentieri i tanti giovani che in questi anni stanno studiando agli istituti tecnici agrarie, le facoltà di agrarie, le facoltà di veterinari, riscontriamo degli iscritti boom da questo punto di vista, questo ci fa piacere, noi dobbiamo accogliere questi giovani all'interno della comunità agricola regionale e questi fondi sono lì a sostenere l'ingresso dei giovani in agricoltura.